Per la zuppa di cecchio, zucca e gambera di fiole. Si aggiunge la zucca, la lascio a cuocere, aggiungo qualche cecchio, già l'estate. Io mi sono preparato prima un fumetto di pesce con le carcasse di gamberi, andrò ad aggiungerli qui e faccio bollire, lessare praticamente la zucca per una ventina di minuti. Dopo 20 minuti circa è pronto per essere frullato e facciamo un composto, una crema. A questo punto aggiungo i gamberi di fiole. Perfetto, una bella mescolata e la zuppa è pronta. Ok, possiamo impiattare. Impiattiamo la zuppa. Mettiamo qualche crostino. L'immancabile gambero di fiume. Prendiamo l'olio. Un pizzico di prezzemolo. E piatto è proprio, bello. Molto coreografico. Allora, non ci rimane che assaggiare. Complimenti. Grazie, maestro. Complimenti. Grazie. Molto buono. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 오